Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos, Bale e la lista continua e contro questa squadra di fenomeni che se la vedrà il Napoli negli ottavi di Champions. Nel sorteggio di Nioh non è andata benissimo ai partenopei che hanno pescato i merengues. Il Napoli giocherà al Bernabeu mercoledì 15 febbraio, ritorno al San Paolo martedì 7 marzo. E' andata meglio alla Juve, gli uomini di Allegri se la vedranno con il Porto, avversario decisamente alla portata dei bianconeri. Maledice l'urna il Paris Saint-Germain che pesca il Barcellona. Negli anni passati i sogni continentali dei parigini si sono spesso infranti contro squadre spagnole. Il City di Guardiola trova il Monaco per una sfida all'insegna dei gol tra i due attacchi migliori d'Europa.